Ferrara, viene ancora inviolato dal proprio canestro, va a buttarsi dentro Alessandro, amici! Poi mi affida all'esperienza di Simmons, spalla a canestro, stava a girarsi, è marcato bene da Mosley, che lo sdoppa, è una scena che può pregiudicare dal punto di vista psicologico, ma attenzione, Mosley fa tutto campo e va a schiacciare il tapit. Collazzo e Tavernari, schiacciata! Sorocas, se la deve vedere con Sabatini, a quale rende una dozzina di centimetri, che assist di Sorocas! Attenzione, Allihoop, di Evans, su assist di Spinelli! Qui c'era la bomba adesso dentro il nostro capitano. Callaway, Allihoop, spettacolo! Callaway, Allihoop, il palo oltre qua! Mamma mia cosa abbiamo visto adesso! Crockett e Jeffrey Crockett!